ero a scuola in corridoio mi ricordo perfettamente che un ragazzo si è avvicinato cercando la discussione eravamo tutti seduti in palestra dopo la lezione di ginnastica si è alzata una mia compagna di classe mi ha detto tu sei lesbica all'ufficio di collocamento mi hanno assegnato un posto di lavoro in un centro estetico però prima che potessi rispondergli mi ha sbattuto contro un muro regandomi ricchione dovresti andare nella scuola dove stanno tutte le altre lesbiche come te mi hanno imposto di usare il bagno degli uomini mi hanno detto che dovevo fare solo le pulizie è triste ma ci ho fatto l'abitudine questo è solo un episodio ma potrei raccontartene altre cento stato solo il primo di una lunga serie non ce l'ho fatta e mi sono fatta licenziale ciao 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 ciao